Allora un saluto a tutti da Acquamorta, siamo qui con il nostro Vincenzo Varia che in kayak sta arrivando dalla Sicilia, da Palermo, 22 giorni di traversata, ha girato un po' tutto il sud Italia e ora si trova qui ad Acquamorta ospite del circolo nautico. Allora una bella esperienza con questa barca che so che è già 30 anni, quindi una barca d'epoca. Una barca d'epoca sì, l'ho scelta perché è un'imbarcazione molto sicura anche se ha i suoi anni e è anche molto affidabile. Io sto facendo questo giubileo in caico, sono partito da Palermo il 19 luglio e conto di arrivare a Roma fra una settimana circa e quindi attraverso la Porta Santa verranno a trovarmi la mia famiglia eccetera. Sono da 22 giorni in navigazione, ho fatto 22 tappe, sono stato ospite in vari circoli, lega navali, cooperative di porto, tutti mi hanno ospitato in modo veramente amichevole. E sono contento che mi avete ospitato anche voi il circolo nautico, esatto, sono veramente contento di essere vostro ospite. In kayak nel Tevere per arrivare a Roma poi no? Poi risalirò, arrivo a Fiumicino e poi risalirò il Tevere, sono 36 chilometri fino all'isola Tiberina. In effetti tutta la traversata da Palermo fino a Roma quante miglia, quanti chilometri sono? Sono più di mille chilometri, penso di farcela in circa un mese. Ancora 10 giorni allora? Diciamo che forse qualcosa in meno, mettiamo qualche giorno in più per tenere conto di un eventuale giorni di maltempo, imprevisti eccetera. E da quanti anni è appassionato di queste imbarcazioni? Da 30 anni. Questa è stata sempre sua? Sono un vecchio canonista, sì, sì, un vecchio canonista che ha deciso di fare questa follia dopo tanti anni che facevo kayak. Mia moglie ha dato l'idea, sono un grande ammiratore di proprio Francesco. e mia moglie ha detto, ma perché tu sei un grande ammiratore di proprio Francesco? Sei un grande appassionato di kayak? Perché non vai a Roma per il giubilato in kayak? Io ho preso in parola, mi sono organizzato, mi sono preparato e sto facendo questa follia. Allora, aspettiamo notizie di Vincenzo Varia quando arriverà dal Papa. Quindi un salutissimo, vuol salutare tutti i nostri amici di Montediprocida. Vi saluto tutti gli amici di Montediprocida. Io tengo un diario su Facebook, quindi vi citerò. Una pagina Facebook? Sì, una pagina Facebook, sì, sì. E come si chiama? Vincenzo Varia. No. 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 Grazie a tutti